Finalmente è arrivato il fatidico giorno, quello dell'apertura del ponte sul fiume Allaro. Dopo anni di battaglia, impegno e sacrifici, finalmente si è raggiunto un obiettivo della riapertura strategica di un collegamento per tutta la Locride. Il sindaco di Caolonia, Caterina Belcastro, unitamente agli altri sindaci della Locride, assieme al prefetto Mariani e al vescovo di Locri, Monsignor Francesco Oliva, questa mattina hanno percorso per primi il nuovo ponte Allaro. Una cerimonia sobria alla presenza di istituzioni civili, militari e religiosi, che però ha un significato importante. È inutile dibadire che ci sono state alle spalle lotte finalizzate alla riapertura e, anche se non si può esultare, era giusto battezzare la nuova infrastruttura. Un'opera strategica per la Locride, un'opera fondamentale. Dopo cinque anni si arriva alla ricostruzione. Ecco, eccellenza, è un giorno importante perché segna una ripartenza per quest'area di territorio che era mal collegata. Però dobbiamo dire che c'è stato un enorme ritardo. Infatti, stavo riflettendo, mentre lei faceva queste considerazioni, che in cinque anni probabilmente avremmo potuto fare svariati chilometri di nuova 106, che sicuramente sarebbero davvero strategici. Dobbiamo accontentarci, ma non è poco, della ricostruzione di questo ponte che ovviamente consentirà alle persone di furire meglio di questo territorio. È un collegamento essenziale, ma non dobbiamo nasconderci dietro il dito. Cinque anni sono tantissimi. Un periodo così lungo deve portare tutti noi ad interrogarci sulle carenze che ha avvolto a questo paese. Cioè, questo è un paese che è in grado di ricostruire il ponte di Genova, là dove c'era il ponte Morandi, nel giro davvero di pochi mesi e nello stesso tempo mette cinque anni per costruire un ponte per carattere o per importante, ma una cosa che in un paese, tra virgolette, normale richiederebbe qualche mese. Non è compito mio stare a capire i perché e i per come, però è un dato di fatto che ci sono queste difficoltà. Vede, io prima di tornare qui da prefetto, avevo già lavorato in Calabria dieci anni, tornando dopo meno di due anni dalla precedente sede di Foggia, ho ritrovato esattamente gli stessi cantieri, gli stessi problemi e così via. Altro esempio banale può essere il tratto di autostrada prima di Reggio Calabria. Lì, io sono arrivato il 14 maggio del 2019, siamo arrivati a fine 2020. Per carità, possono esserci tutti i problemi di questo mondo, ci saranno tutte le giustificazioni tecnico-giuridiche di questo mondo, però mi domando se nel 2020 in un paese che ha bisogno non di camminare ma di correre sia possibile, con le tecnologie attuali, che non si riesca a completare qualche chilometro di autostrada che, presumo, non dovrebbe richiedere grandissime difficoltà. È un paese che si sta a complicare la vita, il nostro. Sicuramente ci sono tutte le giustificazioni di questo mondo, ci sono tutti i profili tecnico-giuridici di questo mondo che possono in qualche modo spiegare questo tipo di situazioni, però è anche un dato di fatto e questo dovrebbe essere il buono proposito, il nostro dovrebbe far parte dei buoni propositi del prossimo anno, che è necessario e indispensabile rimettersi a camminare, anzi a correre. L'Italia ha bisogno di questo e ne ha bisogno soprattutto il Sud. Dobbiamo essere in grado di avere le necessarie dotazioni tecniche, di modificare il quadro giuridico laddove è necessario, perché il paese ha bisogno di opere pubbliche, il paese ha bisogno di lavorare e nello specifico la Locride ha bisogno di avere quantomeno la garanzia minima delle linee di comunicazione. Io questa zona l'ho già visitata varie volte prima di questo aggiorno e mi sono reso conto di come questo piccolo tratto di strada crollato era fondamentale per questo territorio. Quindi vediamo intanto la parte positiva, il fatto che finalmente siamo arrivati a questo giorno. Però dobbiamo guardare avanti, è indispensabile perché il Covid ci ha posto delle sfide del tutto particolari e penso che deve rimettersi, lo ribadisco per l'esempio volta, deve rimettersi a correre. E questa è una storia che è durata effettivamente troppo a lungo. Sindaco, una data importante, siamo al 22 dicembre e il Ponte sull'Alaro, come era stato promesso dopo diversi rinvii, è partito. Da una parte una soddisfazione e dall'altra un po' di amarezza. Sicuramente è una data attesa, una data attesa dall'intero territorio, da tutta la Logide, però ripeto, ho già detto, non è il giorno delle polemiche, perché comunque se andassimo ad analizzare o comunque a ripercorrere con la memoria gli anni passati, troveremmo tante ombre, diciamo, perché i ritardi e in dubbio ci sono stati, le lentezze ci sono state, le mutate strategie progettuali da parte dell'ANAS, però oggi non è il giorno della polemica, oggi è il giorno dei guardare avanti, di costruire un futuro migliore e questo ritengo che sia un messaggio di speranza che si vuole mandare all'intera Logide. Quindi oggi viene riconsegnata alla collettività un'opera, un'opera strategica, un'opera importante di collegamento al nord e sud del territorio e di questo bisogna oggi gioire. Quindi ritengo che, dato che siamo alla vigilia del Natale, ritengo che sia un regalo per l'intero territorio, un regalo per l'intera Logide e per tutte le comunità logidee che da oggi in poi possono fruire di questa arteria e quindi, come dire, da oggi in poi i disagi dei cittadini ormai saranno definitivamente archiviati. Quindi di questo bisogna parlare oggi e oggi siamo qui, i sindaci, tutti i sindaci insieme al prefetto, che sono un pezzo di Stato, rappresentano lo Stato, i sindaci hanno combattuto moltissimo affinché quest'opera potesse essere realizzata, perché se ricordate all'inizio si parlava di un rattoppo, poi abbiamo fatto delle battaglie con un costante e determinante impegno dei sindaci rispetto al quale sono state trovate le risorse per la ricostruzione dell'intera opera e quindi oggi possiamo dire di avere un'opera completamente rifatta. E quindi i sindaci sono stati attori, protagonisti di questo impegno, di questa lotta, di questa battaglia e oggi è un risultato per tutta la Logide. Un'opera ingegnere che rallegra un po' tutto il territorio, da una parte, dall'altro è un armarico che ci sono impiegati cinque anni. Ma guarda, ha avuto una gestazione probabilmente un po' lenta all'inizio, perché come sapete erano due opere separate, costruite in epoche diverse, una delle due ha cominciato ad ammalorarsi prima e quindi si pensava di intervenire su un metaponte, poi è stato cambiato il progetto in corsa, poi si è ritenuto di fare il guado che è stata la soluzione migliore per far viaggiare tranquillamente il traffico e da quando è stato aperto il guado si è partito con i lavori che sono realizzati poco più di un anno e mezzo con tutte le difficoltà del caso, perché si tratta di lavorazioni in alveo, quindi con perforazioni in zone in cui i tempi purtroppo costringono a rallentamenti. Chiedere all'ingegnere che tempi ci sono stati, nel senso che questa struttura che garanzie dà rispetto a quella precedente? Garanzie strutturali intendo che non possa avvenire quello che è accaduto cinque anni fa, ovvero che è il Ponte Crolli. Sicuramente è un'opera fondata su pali, ogni pila è fondata su dieci pali di grande diametro, di mille e due di larghezza per 25 metri di profondità, sicuramente le fondazioni sono molto più stabili e del resto tutta la struttura. È un obiettivo raggiunto dopo tante proteste e tanta caparbietà da parte anche dei primi cittadini? Sì, c'è stato tanto impegno da parte un po' della comunità, tanto impegno anche da parte dei semplici cittadini direi perché quest'opera venisse realizzata, in realtà sono passati cinque anni ed è un'arteria fondamentale, quindi avere interrotto questa arteria per cinque anni è stata una penalizzazione per tutti i territori, però oggi è un giorno di festa, un giorno bello, solare, luminoso e quindi ringraziamo il Signore di tutto questo, certo ci accorgiamo del divario che esiste tra nord e sud, a pensare che il viadotto, il ponte Morandi è stato realizzato in 18 mesi e questo in cinque anni, ha dovuto attendolo perché non è assolutamente paragonabile a quella del ponte Morandi, far capire che c'è un'Italia a due velocità, ma siamo contenti comunque che oggi si possa riaprire questo ponte, quindi l'accesso, perché la Locrida è spezzata in due in seguito a quell'introduzione di questo viadotto, quindi per noi è un giorno di festa.